Ha fatto preoccupare la notizia delle scorse ore riguardo alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, ma è stata smentita? Ci auguriamo che sia smentita perché sarebbe veramente una follia. Già ci sono dei tempi lunghissimi di attesa nei pronti soccorso che abbiamo, con i sacrifici dei medici che conosciamo bene, perché sono molto meno rispetto alla popolazione che arriva al pronto soccorso. Sicuramente è una scelta che Palermo non se lo può permettere perché metterebbe veramente a rischio la salute e l'incolumità non solo dei cittadini palermitani ma anche della provincia e della zona nord della città. Questo appunto lei lo ha sottolineato in una nota stampa. Quanta popolazione coprisse questo pronto soccorso? Questo sicuramente copre tutta la parte della zona nord della città ma anche la provincia. E ripeto, già i tempi di attesa sono lunghissimi. A noi giornalmente arrivano reclami e segnalazioni, pur non avendo competenza come Comune di Palermo, dove addirittura si parla di 12-13 ore di attesa prima di entrare al pronto soccorso. Quindi sicuramente la sanità va rivista, soprattutto in Sicilia occidentale, dove è stata trascurata per anni. Lei a proposito di questo ha auspicato un'attenzione maggiore da parte del Presidente della Regione e del Sindaco di Palermo. Sì, assolutamente. In realtà è una richiesta che ho fatto durante la campagna elettorale proprio al Presidente Schifani perché, ripeto, la sanità in Sicilia occidentale è stata trascurata. I posti letto rispetto alla popolazione sono molto meno anche rispetto alla Sicilia orientale e quindi è evidente che c'è stato veramente un abbandono da parte della sanità per quanto riguarda la città di Palermo e tutta la Sicilia occidentale. Quindi mi auguro che il Presidente Schifani, così come ha già detto attraverso la stampa, se ne occupi personalmente e il Sindaco che ha anche la responsabilità di rappresentare tutti i cittadini che sottoponga veramente l'esigenza che abbiamo.